Cittadinanza onoraria Gianni Letta, il Consiglio Comunale per questo si riunirà in seduta straordinaria aperta venerdì 21 settembre alle 9 a Villa Gioli, all'Aula Consiliare. All'ordine del giorno c'è appunto il conferimento della cittadinanza onoraria della città dell'Aquila al dottor Gianni Letta. Il capoluogo, attraverso il suo massimo organo di rappresentanza istituzionale, ha detto il sindaco Pierluigi Biondi, è fiero di tributare la più prestigiosa norificenza all'onorevole Gianni Letta, amico della città dell'Aquila, che molto gli deve, soprattutto a seguito del sisma del 6 aprile, in termini di vicinanza e concreto sostegno. Il conferimento della cittadinanza onoraria vuole rappresentare la gratitudine nei confronti dell'uomo e del politico e al contempo il riconoscimento degli indiscussi meriti istituzionali e di governo. Con la cittadinanza onoraria, l'onorevole Gianni Letta, ha detto il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Dinari, la Presidenza intende esprimere riconoscenza e gratitudine per la sua signorillità, per il suo aristocratico comportamento, per l'eccellente capacità di mediare, per la costante presenza, per la profonda sensibilità con cui ha parteggiato sempre per la nostra regione, per la nostra città, contribuendo alla sua crescita etica, sociale e culturale.